Il premio per miglior statista dell'anno è un riconoscimento di prestigio mondiale assegnato ogni anno davanti alle massime autorità religiose, finanziarie e politiche, accompagnato in questa occasione da un messaggio di amicizia e di apprezzamento del presidente Biden e dal personale e vibrato attestato di stima del 99enne Henry Kissinger, tutto incentrato sul coraggio, la visione e le capacità di Draghi di promuovere la condivisione in ogni ambito. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ricevuto il premio come World Statesman dell'Appeal of Conscious Foundation a New York per la sua lunga leadership poliedrica nella finanza e nel pubblico servizio. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, questo è un'attafittura che si è indicato su un'attività di sarete jobs La questione di come lidiamo con l'autocratismo è definito la nostra capacità di formare il nostro futuro comunico per molti anni. La soluzione è in una combinazione di frankenze, coerente e engagement. Dobbiamo essere chiaro e vocali sui valori dei nostri societi. Il nostro credito in la democrazia e la regla della legge, il nostro respeto per i diritti humani, il nostro committamento a la solidarietà globale. Questi ideali devono guidare la nostra politica foreigne in una preghiera e preghiera preghiera. Quando facciamo una linea verde, dobbiamo farlo. Quando facciamo una preghiera, dobbiamo farlo. Autocratismi rispondono per l'exploitazione della nostra hesitanza. Dobbiamo evitare l'ambiguo. Inoltre, dobbiamo essere capaci di cooperare. Questa settimana, non significa compromising sui nostri principali. Questa settimana, il 77th General General Assembly. Ho sperato un futuro, quando la Russia decide di tornare alle varie norme che si ascriveva nel 1945. Io sto qui col naso ben ficcato nella terra e ci sto fin dall'inizio dei tempi. Chi, sano di mente, potrebbe mai negare che il ventesimo secolo è stato interamente mio? Tutto quanto, tutto mio! Ogni cosa! Sono all'altro, tutto mio! E' il mio tempo questo. E' il nostro tempo. Opa, detalihydriamme, An Brown. Sono all'altro, tutto mio desperdiare. Oh, è il nostro tempo! Oh, è il lavoro. Oh, è il nostro tempo! Grazie a tutti. Grazie a tutti.